Musica Musica Ragazzi da adesso ufficialmente iniziate a spammare i vostri ciao youtube perché da adesso questa parte della nostra live finirà su youtube quindi ciao youtube siamo qua per voi adesso a farvi vedere come io troverò il mio diruc c5 si c5 c1 bene hai già iniziato bene il video su youtube sono già contenta del trash che ne uscirà non è vero il pt esiste il pt non esiste esiste come e diruc lo c0 nel caso quindi ragazzi bravi salutati di tutti c'è stato riscattato un bevi io bevo subito ah no devo bere vero giusto ciao sono vino e non gioco anche esce della settimana recupera subito vino allora ragazzi pt37 fino alla 67 andiamo di multi dopodiché andiamo di singole ciao Shirin sono qui in tempo bene arrivato Shirin ciao Gabri saluti se la mia idola ciao Gabri ciao e ciao Lilix ragazzi ma siete tantissimi mamma mia siete pronti che bella questa sarà un'intro lunga mi dispiace perché stai guardando il video ma è giusto che tutti i presenti salutino ciao anche a Johnny bene ragazzi siamo pronti prima pullina da 10 prima pullina da 10 oh mio dio io ragazzi ho 50 e 50 ci tengo a ribadirlo perché qua la siso è molto allora pt37 andiamo a pt47 prima pull mi serve un Chongyun e mi servono 5 Ningguang e 5 Yanfei quindi che la fortuna sia con noi anzi possa la fortuna essere sempre a vostro favore cheat di Hunger Games andiamo andiamo oh mio dio ok va bene giusto siamo a pt47 dai su una bella Ningguang una bella Yanfei ora Chongyun che però uno mi va bene e poi dopo basta ciao Luca anch'io adoro Myra Accademia ho la maglietta con Bakugo non so se si vede ho la maglietta con Bakugo Ningguang Ningguang c2 portata a casa arigato gozaimasu bene iniziamo molto 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 bene andiamo avanti un secondo 4 sale nella pull vuoi chiedere un po' tanto ok va bene Ningguang che avevo c1 adesso c2 poi Ningguang e Dea sono d'accordo va bene allora pt47 ragazzi siamo ancora lontani dal soft pt quindi ci facciamo un'altra multi da 10 e vediamo se la fortuna ci viene in conto dai una volta che non devo arrivare al soft pt a pt53 così tanto per forza andiamo 3 2 1 go no ok archetto maledetto che fa anche rima però se questa è una pullata con solo armi la prossima è una pullata con i 5 stelle lo dico sempre io quindi ok ragazzi ci siamo ci siamo come dico sempre dopo la multi con le armi c'è la multi con i 5 stelle forza 3 2 1 no ok niente 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 uh bene sono contenta questa la volevo yanfei c2 bene bene ragazzi dai 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 un'altra yanfei io le multi con 2 4 stelle non le becco mai c'è un sacco di gente che becca anche 3 4 stelle da multi poi ci sono io una però va bene yanfei c2 anche questa è comunque costellazione guadagnate su un pg di cui appunto mi manca questa azione scommettete i vostri punti ah vince il 50 e 50 si ragazzi scommettete se avete punti canale allora ragazzi adesso andiamo di singole andiamo di singole perché siamo a pt67 e alla 76esima c'è il soft quindi mi scoccia tirarle quindi andiamo di singole adesso quindi piano piano pt68 tutto è possibile ah 4 stelle yanfei ancora bene bene dai 68 yanfei 69 ciao hat alex ben arrivato ciao viva la festa ben arrivato anche a te ok 70 entriamo nei avvicinarsi ai soft io non ho mai 20 e 50 e 50 io qualche volta ciao dividenni ben arrivato anche a te ciao ragazzi ben arrivati ben arrivatissimi siamo vicini al soft e non ho l'assicurato quindi stiamo per piangere in realtà pt71 saltate le cuffie magari porta fortuna no ok tanto ragazzi adesso la percentuale di probabilità cala fino al 76 quindi pt72 ok oddio sto malissimo perché adesso se tiriamo le singole 5 stelle non è che poi devo cliccare per andare avanti nella pool da 10 quindi cioè vedo subito chi mi esce poi 72 panico 73 tanto non so se ho perso il conto facciamo un giro di cuffie porta fortuna visto che ci stiamo avvicinando al soft preferisci Xiao o Xiao? io lo so che tutti amano Xiao ma io sono Team Xiao invece ok 74 teoricamente ok allora io non so se ho perso il conto quindi non so se adesso c'è la 75 o la 76 ma penso che questa sia la 75 però inizio ad avere l'ansietta usau ragazzi anadea recaman chance salvatore no no sono appiti 60 70 75 ok era 76 forse non lo so ragazzi ho perso il conto allora io vado perché non sono sicura da quale sia arrivata perché ho perso quindi spammino di emoti comporta fortuna se fosse la 76 anche te sei Timotao che bello ciao anche a SEMU33 benvenuto in live andiamo ok no ok no no ma poi continuate a spammare io vado a dritto tanto è da qui a poco quindi se non era quello 75 questo è il 76 o comunque siamo giù di lì 4 stelle 4 stelle basta sti archi basta ok ok ancora no ragazzi mi vogliono far piangere aiuto io sento che è la prossima sento chi è questa sento chi è questa qui eccola sapevo lo meno sentivo che non mi usciva Yaka però mi manca quindi sono contenta in realtà io sono molto contenta perché non volevo di look ragazzi non volevo di look personaggio nuovo pokédex io sono contentissima io non volevo di look e non volevo che cing quindi bene perché tanto noi adesso continuiamo a pullare ragazzi quindi il mio io l'ho detto anche oggi i miei amici l'importante è che non mi escano di look e che cing poi per il resto posso sopportare si riparte da capo un altro soft pt si torna direttamente a soft pt no fai solo single ragazzi ci addormentiamo allora tanto siamo adesso a pt10 quindi possiamo mantenere oh si ragazzi sono contentissima di continuare comunque a pullare in un banner in cui avevo due personaggi due ac ac1 ac1 quindi abbiamo portato ninguang ac3 e yanfei ac4 quindi quindi meglio questo banner dello scorso ciao sefutim buonasera il banner scorso avevo tutti i personaggi già quasi c6 quindi qualsiasi quattro stelle mi usciva era un pochino scam qui invece abbiamo abbiamo dei personaggi a portare ancora su quindi continuiamo no abbiamo pullato una mona ma adesso pulliamo a yaka in questa multida10 a pt10 eccola qua no no però poteva anche essere poteva anche essere allora ma che bravo ragazzi per chi mi conosce e per chi segue le mie live da un po' di tempo guardate chi è arrivato ragazzi guardate chi c'è qui ma vi ricordate la live scam la live scam per le pull di Klee ora piove esatto ma che cosa ma vedi questa sacroso c2 ce la portiamo a casa molto molto sacroso a caso succedono cose a caso su questo canale oh si boh ragazzi non so veramente che dirvi sacroso ma non vedi questa oh è incredibile è incredibile ragazzi sono veramente allibita scioccata non so nemmeno come dirlo dai dai ok pt20 9k eh ragazzi mi vogliono far mi vogliono far scioppare sti maledetti maledetti io la volevo trovare subito vabbè dai però ragazzi si fa per il content no cosa sarebbero ogni tanto le live se non pulliamo un po' ecco ragazzi è il momento di andare a pt20 a pt30 e trovare ayaka magari gentilmente grazie no no ovviamente no ah giusto ci sei giusto non era ancora mai uscito quindi giusto 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 chongyun doveva prima o poi uscire perché era scam se portavo a ptalt ningguang e fianfei ma chongyun non fosse mai uscito quindi giusto così ok perfetto pt30 si ritorna verso pt30 andiamo a pt40 fiduciosi go no no pt40 niente ok un bel weed smith weed sit che ne avevo proprio bisogno lo weed sit era proprio fondamentale grazie grazie di cuore oh pull delle armi pull delle armi pull delle armi oh si è una pull delle armi ragazzi siamo a pt40 con una pull delle armi potrebbe esserci in questi 50 si dai che potrebbe esserci quindi spammino di emoticon dopo la pull delle armi per vedere che cosa avremo qua animal impact lol ciao benvenuto benvenuta ragazzi 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 stanno malissimo va bene dopo questo grido disperato che mi ha spezzato da morire andiamo no dai raga un parto trigemellare un parto trigemellare grazie ormai fatemela dare ci sei visto che ci siamo ci sta facendo penare io non ho mai penato così tanto per un 5 stelle quindi ne varrà sicuramente la pena ma sono sicura se non vi piacesse così tanto non avrei continuato a insistere l'unica cosa ragazzi se volete che io pulli l'arma mi dovete aiutare con il banner se no l'arma ce la sogniamo ok 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 bene la signorina a casa allora adesso dovremmo essere a pt60 ho perso il conto pt50 a quanto siamo senza vedere è come il polline no tesoro ho avuto fortuna altre volte questa purtroppo non sta andando molto bene ho trovato shawo a pt20 e gagno a pt30 quindi la mia fortuna di un tempo si sta ribaltando tutta sta avendo delle convulsioni e mi sta prendendo a schiaffi in faccia semplicemente contate che avevo trovato sia eeeh kli che kasua vincendo il 50 e 50 quindi io oggi avevo già detto ai miei amici che oggi me lo sentivo tra virgolette che non sarebbe uscita però signorina yaka magari continuiamo a giocare quando ti ho pullato invece di fare questo nascondino continuo ve ne prego ve ne prego per favore non so proprio come conto siamo a 60 grazie yuko sei un tesoro siamo a 60 quindi con questa andiamo a 70 torniamo andiamo nel soft pity e abbiamo 4000 primogen da 18000 questa è la vita che mi rema conto ragazzi e niente siamo pronti siamo pronti sì che siamo pronti dai pt 70 dio mio cioè basta ti prego te ne prego ma raga aiuto mi sto sentendo male oh un flute era una vita che non lo trovavo e stavo benissimo senza ma guardate un po' ma guardate un po' che dir che ho sto gioco bello un flautino oh si ragazzi un bel flautino come quelli del mulino bianco allora ragazzi siamo ufficialmente in pt 70 quindi dobbiamo arrivare al 6 cioè mi tocca tipo shoppare poi tipo 10 euro per arrivare a 2 va bene ragazzi si va di singole sto soffrendo ragazzi io sto per mettermi a piangere me lo giuro però sapete cosa vuol dire ragazzi sapete cosa vuol dire che poi quando l'avrò ottenuta mi darà ancora più soddisfazione buildarla guardiamola così guardiamola così io alla fine ciao l'ho trovato l'ho buildato ma non me lo sono mai goduto come chi invece se l'è sudato quindi gatti o ibi ciao comunque ragazzi fra 5 follower raggiungiamo i 1900 quindi se qualcuno in live ancora non mi segue mi vuol far aggiungere questo traguardo ve ne sarei gratissima perché sarebbe veramente importante per me visto che comunque boh ha un traguardo importante mi viene da piangere già mi viene da piangere per il gioco aggiungiamoci anche questa andiamo dai 71 tanto fino a 76 non ci spero nemmeno quindi andiamo oltre fino a 76 non ci spero nemmeno quindi 71 72 ok adesso si caro di real death rose si adesso si 73 4 stelle un'altra lingua un'altra pull però grazie ne avevo bisogno 74 ci siamo quasi ragazzi 74 75 allora ragazzi o esce qui o siamo fregati praticamente quindi spammino di emoticon un tattico un tattico che siamo a 76 ragazzi siamo a 76 siamo a 76 quindi perché dice 77 78 tu esce no 76 no 76 76 vi prego vi prego 76 andiamo 76 va bene allora mi volevate scammare chi ha detto 77 78 si è messo d'accordo con il gioco maledetti a voi vi vengo a cercare poi 77 come ha detto qualcuno in chat no nemmeno 77 ragazzi rendiamoci conto tocca veramente scioppa tocca veramente scioppa 78 per forza per forza ciao canale 2020 si 2021 2001 ragazzi 70 io sto per avere un collasso emotivo ve lo dico ve lo dico allora io non ho mai visto così pochi di fra emergency in vita mia però 79 questo sarà questa praticamente il video su youtube si chiamerà il parto di ayaka che è un po' inquietante detto così ragazzi 80 poi dopo la percentuale si riabbassa quindi siamo fregati 80 numero 1 no ragazzi io non sono mai arrivata a pt 90 in vita mia comunque ragazzi questa è la dimostrazione che il pt esiste il pt esiste e chi mi ha detto non esiste si sente anche in colpa per avermelo detto mi avermi fatto sperare e adesso io sto piangendo sappiatelo persone che dicono il pt non esiste detto questo giramento di cuffie che mi stanno saltando per l'ennesima volta 81 ecco visto minaco ha trovato al 90 di pt usaui trovato al 90 di pt ayaka quindi 81 si va si continua arce smetti di dirlo questa è la dimostrazione suprema che il pt esiste 82 4 stelle nin guang no una bella arma perfetto perfetto grazie 83 raghi non riusciamo a prenderla non riusciamo a prenderla ve lo giuro perché abbiamo tipo 3 pull 84 si scioppatina piccina tipo da quella da 10 euro classica per arrivare 85 lol sto morendo e per ultima ragazzi asmi roll e stardust le prendo da lì 86 devo prendere le stardust ragazzi l'avreste mai detto io no meno male ho tantissime stardust e la prendiamo da qui le pulline che mancano ne mancano 4 io ne prendo una alla volta tanto ho un sacco di stardust proviamo 80 signori signori pt87 dopo aver beccato mona e aver ricominciato da casa il pt eccomi qua la sfiga se voi vi chiedevate che volto ha la sfiga è bionda alta 1,70 agli occhi azzurri e alle orecchie del gatto sono io grazie a tutti